Siamo insieme al numero 22 Ivan Arniani che ha vinto la quad country nella sua categoria Ciao Ivan, parlare di vittoria oggi ci suona un po' male a tutti perché sappiamo della morte di Simoncelli però proprio per il suo ricordo vediamo di quello sport che a lui piaceva tanto, che erano i motori vediamo di ricordarlo dicendoci come è andata oggi la manche e poi salutiamo Simon Non ho fatto altro che pensare proprio a lui, è più forte di me e non so che cosa dire oggi Come era la pista? Raccontaci un po' della pista Io non sono un saltatore, anzi i salti mi fanno veramente paura paura di farmi male, paura di saltare, paura per la moto perché la moto è un gioiellino Poi 22 è un numero giusto E come ti dico non mi piaceva per niente Cioè io dal primo kit nelle prove Visto anche la pista ieri sera ho pensato proprio di farla con tranquillità come una cosa Poi pianino pianino Prendevo sempre più confidenza Vedevo che i miei principali concorrenciari avevano problemi Ha avuto dei problemi Aldo? Sì Aldo ha avuto dei problemi purtroppo anche per lui mi dispiace perché Le gare si è bello vincerle insieme Certo certo Che non per una sfiga di un altro Certo Però stavolta è andato bene dai Dai Qualche problemi Anche te sappiamo che devi rimettere un po' le mani sul mezzo Ma si poca roba Una cosa Poca roba Mi hai detto che mi darei una mano a riadrizzare il paraurti mio Che oramai Guarda Volentierissimo La scopa che batte su un albero sul primo giro Una cosa Mi hai fatto prendere paura Perché cercavo l'albero dove tu avevi picchiato Ma te lo sai che io posso questo e altro Perciò Allora voleva fare un ultimo ringraziamento perché prima si era intruppato Sì Ed ecco vai Ivan sei on board Questi sono stati i miei sostenitori moralmente Sandro Vieni Civalo Vieni Rita Vado un po' più indietro Rita Rita Vieni qua vicino a me dai Vieni Allora ecco il team che diceva prima Ivan Si era un team Si era intruppato Te tappali Gli sponsor di tappali Dicevo Il team che prima Ivan si era un po' intruppato Partiamo da sinistra Nome? Silvano Silvano Numero 18 Spontelli Che è arrivato secondo Numero 10 Antonio Che non si sa come è arrivato No Terzo Ivan lo abbiamo visto prima E Alessandro E Alessandro Questo è il team che Ragazzi ci abbiamo tutto al podio Primo, secondo e terzo Ragazzi bravi Alla prossima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.